Gela combustione illecita di rifiuti speciali, sit-in per difendere gli alberi, prefettura patti per l'attuazione della sicurezza urbana, partito democratico primarie anche nel Nisseno, alluvioni Schifani convoca vertice. Ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale. Gela combustione illecita di rifiuti speciali derivante da attività edile, l'ispezione della Guardia Costiera a Manfria. Nei giorni scorsi il nucleo operativo della Polizia Ambientale di Gela, a seguito di un'attività di appostamento e pedinamento, ha individuato il personale di una società edile locale, intento a bruciare rifiuti speciali derivanti dall'attività di ristrutturazione di un fabbricato in località Manfria, nel comune di Gela. I militari, dopo aver accertato, mediante diversi giorni di appostamento, che si trattava di una consuetudine nell'ambito della gestione dei rifiuti prodotti dalla ditta, sono intervenuti prontamente. Durante l'ispezione sono emerse anche numerose criticità inerenti alla gestione del deposito temporaneo dei rifiuti, che di fatto ha deturpato una zona tutelata dalla legge, in quanto a meno di cento metri dalla linea di battigia, nonché caratterizzata dalle dune naturali sovrastate da una rigogliosa macchia mediterranea. L'area di circa mille metri quadrati è stata posta sotto sequestro preventivo e al titolare della società è stato contestato il reato di combustione lecita di rifiuti speciali. Il trasgressore dovrà, insolido con il proprietario dei luoghi, provvedere al ripristino ambientale della zona. Intanto resta costante l'attenzione alle tematiche ambientali da parte del personale della Capitaneria di Porto di Gela su tutto il territorio, con particolare attenzione sia all'attività repressiva che preventiva. Un sit-in per difendere gli alberi allo stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta, iniziativa di Legambiente, Lipu, WWF Sicilia Centrale e Italia Nostra. Legambiente Caltanissetta, Lipu, WWF Sicilia Italia Nostra, mercoledì pomeriggio hanno organizzato un sit-in vicino al Marco Tomaselli in difesa degli alberi. Le associazioni sono d'accordo alla creazione della pista ciclabile, ma non a discapito del viale alberato di viale Stefano Cantura e Pian del Lago e chiedono di non abbatterli durante la realizzazione della pista ciclabile. Il sit-in è stato un momento utile, tra l'altro erano presenti i diversi attori in campo, l'amministrazione, ma c'erano anche i residenti, c'eravamo noi come associazione ambientalista e poi i cittadini. È stato utile vedere, dando lo stato di fatto, quindi il danno che è stato realizzato. Abbiamo verificato che alcuni alberi di alto flusso sono stati per fortuna salvati e che seguendo un'indicazione nostra l'amministrazione ha segnato con il colore rosso gli alberi da salvaguardare lungo il margine della strada. Quelli all'interno del canalone invece sono stati rimossi, molti sono stati rimossi. Ma la cosa importante va al di là di questo, è il fatto che abbiamo fatto capire che al di là delle compensazioni più o meno previste, in alto si tratta di, almeno da progetto, di 190 alberi da tagliare, al contrario di quello che si dice di 20, 30, da progetto c'è scritto 190, è vero che non saranno tutti alberi d'alto flusso, saranno anche rovi, saranno alberelli che sono nati dentro il canalone e quant'altro. Però la cosa importante è che c'è stato un confronto, che si è capito che noi al di là delle compensazioni ci teniamo a salvaguardare quanto più possibile gli alberi che sono alberi secolari. In questo sitino è ancora una volta emessa la preoccupazione, non solo di noi associazioni, ma chiaramente di tanti cittadini, per il rischio della perdita di tanto verde e tanto ossigeno in questa città. Abbiamo ribadito come associazione la richiesta all'amministrazione di limitare il più possibile il sacrificio di questi alberi, anche perché ormai il progetto è esecutivo. Non siamo stati coinvolti negli anni passati per la realizzazione di questo progetto, avremmo potuto proporre lì in quella sede altre soluzioni. Adesso purtroppo ci troviamo di fronte a scelte già fatte, quindi quantomeno sacrificare meno alberi possibili e soprattutto garanzie forti sul reimpianto di nuove essenze e di nuovi alberi. Ritengo questo sitino molto proficuo perché è chiaro che si sono contrapposti o perlomeno hanno dialogato le varie parti che rappresentano un po' gli interessi sul territorio, gli interessi ambientali, gli interessi dei residenti e io che rappresento l'amministrazione. È volontà di tutti e io mi farò portatore proprio di questa richiesta, quella di redigere un preciso e attento piano per quanto riguarda le opere compensative, le opere di compensazione per questa opera. Io già la prossima settimana mi attiverò coinvolgendo anche le associazioni ambientali affinché l'ufficio tecnico possa redigere un progetto che soddisfi tutti i portatori di interesse. Prefettura, siglati i patti per l'attuazione della sicurezza urbana e l'installazione di sistemi di videosorveglianza con i sindaci dei comuni di Mazzarino, Vallelunga Pratameno e Villalba. La sicurezza dei centri urbani nel territorio nisseno continua a essere in cima all'agenda delle istituzioni locali e provinciali. Questa mattina il prefetto Chiara Armenia e i sindaci dei comuni di Mazzarino, Vincenzo Marino, Vallelunga Pratameno, Giuseppe Montesano e Villalba, Paola e Mordino, alla presenza del vice prefetto, hanno sottoscritto i patti per l'attuazione della sicurezza urbana e l'installazione di sistemi di videosorveglianza con la finalità di adottare strategie congiunte volte a contrastare le diverse forme di illegalità e garantire ai cittadini delle comunità locali il diritto alla sicurezza e alla qualità della vita urbana. L'iniziativa è ispirata dal decreto legge sulle disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, convertito in legge che indica tra gli strumenti privilegiati per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffuse e predatoria, l'installazione di sistemi di videosorveglianza. Le zone maggiormente sensibili da monitorare attraverso l'installazione delle telecamere sono per lo più quelle in prossimità delle scuole, quelle del centro storico e nelle vicinanze delle isole ecologiche, oltre che quelle vicine ai palazzi municipali. Sincero apprezzamento è stato espresso dai sindaci perché l'installazione dei sistemi di videosorveglianza nei rispettivi territori comunali, oltre a dare un importante contributo in termini di promozione del decoro urbano, concorre ad accrescere la percezione di sicurezza dei cittadini che avvertono maggiormente la presenza dello Stato e delle amministrazioni locali sul territorio. Infine il prefetto ha ribadito l'importanza dei dispositivi di videosorveglianza anche come supporto all'attività della Polizia giudiziaria, attraverso l'implementazione dello scambio informativo tra le forze di Polizia locale e quelle statali. Partito Democratico, le primarie anche nel Nisseno per l'elezione del Segretario nazionale. Domenica 26 febbraio si terranno anche in provincia di Caltanissetta le primarie per l'elezione del Segretario nazionale del Partito Democratico. Saranno 20 i seggi in provincia dove gli elettori del PD potranno recarsi. Potranno votare il gazebo del Partito Democratico tutte le cittadine e i cittadini italiani e i cittadini stranieri residenti in Italia. Il voto è consentito a partire dai 16 anni. Per votare occorre essere in possesso di un documento di identità. Il voto è aperto anche a chi non è iscritto al Partito Democratico, ma possono partecipare persone che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito Democratico, di sostenerlo alle elezioni e accettino di essere registrati nell'album pubblico delle elettrici e degli elettori. È importante evidenziare che per tutti i cittadini che intendano votare in un seggio diverso da quello del luogo di residenza è necessario pre-registrarsi entro il 24 febbraio alle ore 12. I seggi nei vari comuni della provincia di Caltanissetta sono Caltanissetta via Salvo d'Acquisto 113, Butera piazza Dante 25, Campofrango via Umberto 35, Delia Corso Umberto 134-136, Gela via Palazzi spazio andistante ospedale, Marianopoli via Regina Margherita 38, Milena piazza Ailebens, Mazzarino Palazzo Alberti, Montedoro Sala Consiliare, Mussomeli piazza del Popolo 44, Niscemi piazza Vittoria Emanuele 5, Resuttano via Crispi, Riesi via Principe Umberto 82, San Cataldo piazza Papa Giovanni XXIII, Santa Caterina Villarmosa via Aldisio 61, Serra di Falco via Cavalieri di Vittorio Veneto 1, Sommatino, Corso Umberto I, Sutera piazza Sant'Agata, Villalba via Vittorio Veneto, Vallelunga Pratameno via Cesare Battisti 105. Alluvioni Schifani convoca un vertice, un piano straordinario per la manutenzione di 8.000 corsi d'acqua. Ha dato 10 giorni di tempo per una mappatura urgente degli oltre 8.000 corsi d'acqua presenti in Sicilia e un piano straordinario di interventi per la loro manutenzione, il Presidente della Regione Siciliana è stato affidato il coordinamento dell'attività al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della Presidenza della Regione, Leonardo Santoro. Il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, dopo l'ultima alluvione nella zona sud-est della Sicilia, ha infatti convocato un tavolo in presenza dei dirigenti generali dei Dipartimenti Regionali di Programmazione, Agricoltura, Sviluppo Rurale e Protezione Civile. Si comincerà intanto con un intervento di circa 20 milioni di euro per la ricostruzione degli argini, risagomatura dei canali centrali e rimozione del materiale vegetale accumulatosi nei quattro fiumi legati agli allagamenti recenti nelle province di Catania, Siracusa, Ragusa e Caltanissetta e per questo intervento verranno impegnati i mezzi e personale della Regione. Si stima poi un ulteriore intervento di circa 180 milioni di euro per ulteriori interventi strutturali per la messa in sicurezza di altri corsi d'acqua, sempre nell'area sud-orientale della Sicilia, ma il Presidente ha chiesto una manutenzione ordinaria annuale dei corsi d'acqua, si legge nel comunicato stampa della Regione. In appena 100 giorni di governo, ha sottolineato il Presidente della Regione, il mio governo ha già dovuto affrontare diversi eventi alluvionali in svariati territori dell'isola, il primo nel Trapanese addirittura il giorno della mia proclamazione. Nei giorni scorsi è stata la volta del sud-est, le mutate e mutabili condizioni climatiche complessive ci impongono di intervenire con immediatezza. Per non farci trovare impreparati, solo prevenendo, possiamo orginare la forza della natura e limitare i danni a persone e cose. Si pensa infatti ad una manutenzione complessiva in tutta la Regione dei fiumi e torrenti e a tal proposito sono già al lavoro gli uffici dell'autorità di Bacino, che si occupano dell'alta sorveglianza idraulica in collaborazione con i Dipartimenti Agricoltura, Sviluppo Rurale e Protezione Civile. Non appena avremo la mappa e il quadro complessivi delle opere da fare, ha concluso ancora il Presidente Schifani, il Governo individuerà le fonti di finanziamento europee e nazionali per fare ciò che non è assolutamente più rinviabile. Parliamo adesso delle imprese. Pubblicato il bando Ripresa Sicilia dal 28 febbraio attiva la piattaforma online e le domande partiranno dal 5 aprile. È stato pubblicato il bando Ripresa Sicilia, tanto atteso dagli imprenditori dell'isola. È disponibile online l'avviso pubblico per l'aiuto alle imprese per un totale di 36 milioni, concesso con un procedura valutativa e sino esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Sarà possibile accedere alla piattaforma per scaricare la relativa modulistica dal prossimo 28 febbraio. Le istanze complete della prevista documentazione dovranno essere presentate dalle ore 12 del 5 aprile alle ore 12 del 27 aprile 2023. La dotazione finanziaria per questa misura di agevolazione è pari a 36 milioni di euro, comprensiva degli oneri gestione di cui 20 milioni a valere su risorse del POC 2014-2020 e 16 milioni a valere su risorse dell'FSC 2021-2027. Abbiamo lavorato all'assessura del bando Ripresa Sicilia in linea con le esigenze e la richiesta degli imprenditori, per avviare in tempi veloci la procedura di domanda per i finanziamenti, dice l'assessore regionale Attività Produttive Edita Maio. Il governo regionale sta mettendo in moto una macchina complessa di aiuti e contributi destinati alla crescita e allo sviluppo delle imprese siciliane, per recuperare il terreno perduto e superare la crisi determinata dai momenti di stasi provocati dalla pandemia e dai recenti aumenti dei costi energetici e delle materie prime. Destinatari della misura sono le piccole e medie imprese con sede legale operativa in Sicilia, sia in forma singola che associata ad altre imprese, complessivamente tre aziende, che intendono realizzare un programma di spesa nel territorio della regione siciliana. Sono ammissibili i programmi di spesa non inferiori a 400 mila euro e non superiori a 5 milioni. Fra le idee imprenditoriali ammesse, quelle integrate con progetti di ricerca e sviluppo a sostegno della valorizzazione economica dell'innovazione e dell'industrializzazione dei risultati della stessa ricerca, ma anche interventi per nuove tecnologie o soluzioni innovativi nei processi, nei prodotti, servizi e nell'organizzazione. La misura non può superare il limite massimo del 75% della spesa ammissibile e deve rientrare nei limiti dell'intensità massima di aiuto, di cui una parte erogata a mutuo agevolato il tasso zero della durata massima di 12 anni e la restante parte a fondo perduto. Resta in carico al beneficiario il convizionamento per un importo non inferiore al 25% di spesa ammissibile, da immettere tramite apporto di mezzi propri o finanziamento bancario non agevolato. Le agevolazioni non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici nazionali, regionali o comunitari per le stesse spese ammissibili. Il testo completo dell'avviso è pubblicato sul portale della regione siciliana. Cambiamenti climatici. Il segretario generale dell'autorità di Bacino della regione Santoro dichiara maggiore tutela dei territori grazie al nuovo piano gestione rischio alluvioni. Si è tenuto ieri un incontro a Palazzo d'Orleans a Palermo con il Presidente della Regione Sicilia Renato Schifani sulla predisposizione di un piano straordinario per la mappatura e la manutenzione degli oltre 8.000 corsi d'acqua presenti in Sicilia. Grazie al nuovo piano di gestione rischio alluvioni approvato dal Consiglio dei Ministri abbiamo a disposizione uno strumento aggiuntivo a tutela dei nostri territori sempre più colpiti dagli estremi fenomeni meteorologici dovuti ai cambiamenti climatici in atto. Ha detto il segretario generale dell'autorità di Bacino della regione siciliana Leonardo Santoro Tra i diversi aspetti trattati ci sono le relazioni e le mappe tecniche con le caratteristiche idrauliche dei territori dell'isola, le mappe di rischio alluvione, delle aree soggette a cambiamenti climatici e di quelle soggette alle cosiddette piene lampo. Il documento è finalizzato alla riduzione delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali attraverso l'attuazione prioritaria di interventi non strutturali e di azioni che servano a ridurre la pericolosità. L'esperienza del passato, ha continuato Santoro, mostra come i costi dei danni causati dalle calamità idrogeologiche siano ingenti e sicuramente superiori alle risorse finanziarie disponibili. Il nostro obiettivo è quello di privilegiare la programmazione degli interventi di carattere preventivo a difesa del suolo, in sinergia con i comuni e le associazioni di categoria per qualificare la spesa per un più efficiente utilizzo delle risorse. Real Maestranza 2023, rinnovate le cariche di calzolai e tappezzieri, Massimo Seminara Porta Bandiera, Vincenzo Di Forti alla Verdiere, Calogero La Verde e Porta Baldacchino. Sarà Massimo Seminara il Porta Bandiera della categoria dei calzolai, pellettieri e tappezzieri per il 2023, questo quanto decretato dopo la seduta del 13 febbraio dell'Assemblea della categoria svoltasi nei locali della Chiesa San Paolo. In presenza dell'assistente spirituale della categoria padre Leandro Giugno, è preseduta dal presidente Filippo Aleo, che nel 2018 ha ricoperto la carica di capitano della Real Maestranza. Il quarantenne Seminara prende parte alle processioni della settimana santa da ben vent'anni. Oltre a lui, durante la seduta sono state anche assegnate le cariche di alla bardiera al 29enne Vincenzo Di Forti, entrato nella categoria nel 2018, e di Porta Baldacchino, a colui che ha rivestito il ruolo di portabandiera l'anno scorso, e cioè il 62enne, Calogero La Verde. Fervo noi preparativi per la prima edizione del Festival Tra le Vare in Preghiera. Avrà inizio venerdì 24 febbraio la prima edizione del Festival Tra le Vare in Preghiera, organizzato dall'Associazione Giovedì Santo. La Kermess, ideata dal nuovo direttivo guidato dal presidente Arcangelo Gianmusso, si svolgerà dal 24 febbraio al 18 marzo, presso la Sala Espositiva delle Vare in Via Napoleone Colaianni e la Cattedrale Santa Maria la Nova. Il Festival apre le porte della Sala Espositiva alla Cittadinanza, donando momenti culturali e religiosi al tempo stesso. Il programma è disponibile sulle pagine social dell'Associazione. Per la prima volta alla Fondazione dell'Associazione Giovedì Santo si è voluto organizzare un festival che preparerà la cittadinanza ai prossimi eventi pasquali. Il programma prevede una serie di eventi religiosi e culturali, che vedono protagoniste prestigiose realtà nissene e regionali, e la partecipazione straordinaria degli attori Salvina Fama e Mario Solvello. La direzione artistica dell'evento è affidata al nisseno Francesco Daniele Miceli. Ci sarà spazio anche per due rassegne musicali tradizionali della Settimana Santa. Nello specifico ne avremo una diretta dal Maestro Ivana Stella, a cura dell'Associazione Musicale Giuseppe Verdi, e una diretta dal Maestro Salvatore Bonalfini, a cura dell'Associazione Sicilia e Musica. Ad anticipare gli eventi per ogni venerdì ci sarà anche una via Crucis, preseduta dai parrochi di tutte le parrocchie della città. Invito la popolazione tutta a partecipare. L'ingresso è gratuito e già da oggi i biglietti sono disponibili sul sito eventi.giovedisanto.com Il Carnevale tra i Monti Sicani, un'atmosfera festosa da San Giovanni Gemini a Cammarata. Dopo la pandemia il Carnevale è tornato a disegnare di coriandoli le vie di San Giovanni Gemini e Cammarata. È la festa laica per tradizione, la cui radice sarebbe da ricondurre al Carrus Navalis, ossia il carro di Iside, Dea della Luna, portata in processione come patrona dei navigatori su un battello a ruote, tra le danze e i canti della popolazione, nelle città di mare o fluviali, il 5 marzo. Oppure, secondo il basso latino, Carnem Levare, con riferimento ai giorni che precedono la Quaresima, periodo di digiuno nelle religioni cristiane. Mascherine, stelle filanti e tanta musica hanno fatto da cornice ai balli di adulti e bambini durante la sfilata dei carri allegorici allestiti per la manifestazione carnevalesca del 2023. Così, nei due comuni in provincia di Agrigento, nel cuore dei Monti Sicani, il Carnevale è tornato a regalare spensieratezze e sorrisi a margine del periodo Covid in cui la manifestazione è stata sospesa. Una processione profana di danze e canti che ha unito le vie di San Giovanni Gemini e Cammarata a partire da domenica scorsa, con la tradizionale prima sfilata dei carri allegorici. Martedì, invece, la seconda e ultima carmesse, con le maschere che hanno concluso la serata, come sempre, in Piazza Largo Nazareno, nel centro storico di San Giovanni Gemini, dove si è ballato e cantato fino a notte fonda. Non è mancato il divertimento, il tradizionale sberleffo e la presa in giro tipica del Carnevale, che con il tempo ha mutato la propria essenza, mantenendo inalterata quella malinconica, dolce sensazione di un tempo antico. Il Carnevale a Caltanissetta, martedì grasso all'insegna dell'allegria in centro storico. Una coltre colorata di coriandoli misti a stelle filanti ha ricoperto ancora una volta la pavimentazione del centro storico nisseno. Martedì 21 febbraio, tra risate, musica, giochi e palloncini, i bambini e bambine della città si sono dati appuntamento in centro, indossando ancora una volta i propri costumi di Carnevale, i più gettonati quelli delle principesse supereroi e non sono mancate nemmeno tante piccole mercoledì. Il martedì grasso ha chiuso la parentesi carnevalesca nissena e ha regalato ancora una volta qualche ora di divertimento, soprattutto per le fasce più giovani. In queste settimane si sono susseguite infatti feste private, iniziative organizzate nelle varie parrocchie e non solo, e anche il centro storico negli ultimi giorni ha accolto numerosi cittadini, durante i diversi eventi promossi dal comune e realizzati insieme alle associazioni a realtà del territorio, dal giovedì al martedì grasso per l'appunto. Sono stati coinvolti gli studenti delle scuole, dai più grandi ai più piccoli e mentre nei primi due giorni e la domenica il palco era stato allestito vicino alla chiesa di Sant'Agata al collegio, questa volta sono state la cattedrale e la chiesa di San Sebastiano a fare da cornice all'evento, con giochi gonfiabili e animazione. Bello, bello, poi il divertimento per i bambini ovviamente ci vuole, dopo tanti anni finalmente un po' di divertimento per tutti, grandi e piccoli. Cosa le piace del carnevale? Eh, l'è risato, un po' di allegria, ci vuole. Quali sono i costumi più gettonati anche dai suoi figli? Eh, quest'anno i miei figli abbiamo Capitana America e Belle, la principessa. Purtroppo è terminato, però è stata una bella, penso, esperienza per i bambini perché da un po' di anni che, diciamo, queste manifestazioni purtroppo non vengono più svolte a causa magari del Covid, della pandemia, non ha permesso la città di poter fare queste manifestazioni. Però quest'anno c'è stata questa opportunità e penso che i bambini e anche noi genitori siamo abbastanza soddisfatti. La città potrebbe fare, diciamo, di meglio, però accontentiamoci di poco. San Cataldo, premiate le maschere più belle nel tradizionale appuntamento del martedì grasso. San Cataldo si è vestita a festa per l'ultimo giorno di carnevale. Lungo il corso Europa i bambini vestiti con i costumi carnevaleschi si sono divertiti tra coriandoli e stelle filanti, tra spettacoli di animazione, esibizioni canore e danzanti e alla fine sono state premiate anche le tre maschere di carnevale più belle. L'evento è stato organizzato dai commercianti di corso Europa con il patrocinio del comune di San Cataldo. È stata un'iniziativa nata così spontaneamente, eravamo al bar qua di fronte da Patrizia, siamo riuniti e abbiamo detto perché non provare a organizzare qualcosa a noi. Tutto totalmente autofinanziato, ringraziamo il comune però per il patricinio, per il palco, per i gazebbi. Insomma, come prima esperienza penso che non ci possiamo lamentare. Quarto appuntamento della trentunesima stagione concertistica jazz di MusicArte, giovedì sera Andy Shepard e Marco Tindiglia al Margherita. Quarto appuntamento della trentunesima stagione concertistica jazz dell'Associazione MusicArte. Giovedì 23 febbraio alle ore 21 al Teatro Comunale Regina Margherita di Caltanissetta con il duo del sassofonista britannico Andy Shepard con il chitarrista italiano Marco Tindiglia. Andy Shepard e Marco Tindiglia danno vita al progetto Meeting Point, un vero e proprio punto di incontro di personalità musicali e di luoghi dell'anima. Un viaggio musicale che dalla Bristol di Andy Shepard arriva alla Genova di Marco Tindiglia, mescolando nell'interplay jazzistico melodie, armonie e ritmi del nord Europa e del Mediterraneo, dei Caraibi e dell'India. La collaborazione tra i dei musicisti nasce nel 2011 in occasione del Festival Jazz in Laurino e si sviluppa nel corso degli anni sia durante i numerosi workshop condotti insieme sia in performance in diverse formazioni dal duo al sestetto. Affiancano i due Masa Kamaguchi al contrabbasso e Michele Rabbia. Durante il concerto, Shepard e Tindiglia alternano brani di propria composizione a momenti di improvvisazione estemporanea, in un continuo interplay che partendo dalla comune matrice jazz cerca di essere tanto libero di spaziare nei diversi generi musicali, quanto rigoroso nel cercare una trama, un senso e una direzione comune. Andy Shepard è un sassofonista jazz, tenore e soprano britannico di fama internazionale apprezzato sia come solista che come docente, dall'impressionante abilità tecnica e pulizia del suono. Ha più volte vinto il British Jazz Award e vanda collaborazioni discografiche, concertistiche e didattiche con musicisti dell'elevatura di Jill Evans, Carla Bley, George Russell, Steve Shallow, Kate Tippett, John Martin, Paolo Fresu, Rita Marco Tulli. Marco Tindiglia è chitarrista e compositore jazz, laureato al prestigioso Berklee College of Music di Boston, nonché didatta e direttore artistico dei festival Jazz Maths di Genova. Per questa edizione è tutto, vi lascio al meteo e le notizie di pubblica utilità, grazie per averci seguito. Un saluto ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì i correnti d'aria artica dal nord Europa andranno ad alimentare una circolazione depressionaria presente sulla penisola iberica, dalla quale poi un flusso d'aria un po' più umite e abbastanza umida coinvolgerà l'Italia, determinando molta nuvolosità. Infatti, osservando proprio la grafica delle nubi, notiamo come gran parte del centro nord si è alle prese con una distesa nuvolosa piuttosto estesa, soprattutto al centro nord, mentre al sud e sulle isole maggiori ci sarà modo per avere maggiori schiarite. Per quanto riguarda quindi il tempo che ci aspetta nel corso della giornata di giovedì, avremo anche qualche goccia di pioggia che potrà raggiungere Levante Ligure e parte della Val Padana, ma si tratterà essenzialmente di fenomeni molto deboli. Altrove sarà la nuvolosità a prevalere, seppur con qualche schiarita in più sull'estremo sud, specie sulla Sicilia e settori ionici parte della Sardegna, con temperature che rimangono ancora bene al di sopra delle medie, punte anche di 18 gradi sulla città di Palermo, altrove valori un po' più contenuti, ma comunque al di sopra delle medie stagionali. Tutti i dettagli li trovate sull'app di Trebi Meteo. Farmacie di turno, Caltanissetta, servizio diurno, Vizzini, Viale Trieste. Servizio notturno, Messana, Viale Conte Testa Secca.